Domenico Losacco, quarta movimentazione nel giro di pochissimi anni, che cosa sta succedendo all'ospedale oncologico? Allora, l'oncologico di Bari, come già voi saprete perché ve ne siete occupati, siamo in costante fibrillazione, siamo pronti a fare il quarto sciopero nel giro di circa un anno, perché sistematicamente ci ritroviamo alla negazione di diritti contrattuali, diritti proprio sanciti dal contratto che vengono negati ai lavoratori e ci troviamo in una situazione delicata perché dovuta esclusivamente a una gestione poco chiara, poco trasparente di questo managgimento aziendale. Avete contattato anche il prefetto e siete adesso in attesa di una risposta, risposta che però tenta ancora ad arrivare. Certo, il prefetto, noi abbiamo inoltrato la nostra piattaforma rivendicativa dove abbraccia moltesplici problemi tra cui la mancata frizione dei buoni passi sostitutivi, diritti contrattuali come ho già detto e anche ci siamo occupati da sempre, sono ormai cinque anni che ce ne occupiamo, di un altro problema rilevante come quella dell'assenza di distributori automatici. Ripeto, questo non è un capriccio del sindacato perché noi non abbiamo interessi, ma è un servizio che deve essere dovuto sia ai pazienti malati di cancro che ai loro parenti, nonché anche ai dipendenti dell'istituto. Quindi oggi noi denunciamo una mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione nei confronti del personale dipendente e di chi frequenta. Ora dal prefetto ci aspettiamo più concretezza perché il prefetto ci ha riscontrato la nostra piattaforma però non ci ha ancora convocato. Noi siamo in attesa di convocazione e non appena poi saremo convocati, se non riusciremo a trovare le giuste soluzioni alle problematiche ormai ataviche che si sono incancrenite in questo istituto, procederemo con il quarto sciopero consecutivo. A darvi ragione anche gli organi del CIV che sono quelli che nominano anche il direttore generale dell'oncologico, questo significa che avete pienamente ragione? Certo, a suffraggio di quella che è l'azione sindacale condotta dalla FIALS all'interno di questo istituto che da sempre ha contestato queste politiche aziendali non conformi nei confronti dei dipendenti e di tutto l'interesse pubblico, a tal proposito abbiamo avuto proprio stamane da un componente del CIV, un consigliere del CIV, una nota articolata di quattro pagine che viene indirizzata persino al Ministero della Salute dove conferma in tutta la sua completezza quelle che sono le problematiche denunciate dalla FIALS e quindi oggi noi siamo ancora più rammaricati perché quel detto avevo ragione si è confermato ma ora vogliamo andare avanti, vogliamo ancora più chiarezza e chiediamo e pretendiamo dagli organi regionali che sono stati interessati anche di queste problematiche un intervento netto e deciso perché noi così non possiamo più andare avanti. È un ospedale che ha anche dei macchinari di tecnologia avanzatissima però ci sono dei problemi, ossia quelli del personale. Certo, noi abbiamo denunciato anche la carenza di personale sanitario non solo per l'utilizzo di macchine e di attrezzature scientifiche, di macchine pesanti come ad esempio gli acceleratori lineari per la radioterapia o l'apertura delle 6 sale operatorie contemporaneamente che sarebbe ormai giunta l'ora di aprirle ma denunziamo anche la carenza infermieristica nelle unità operative dove addirittura le normali turnazioni, le matrici di turnazioni di servizio non possono essere eseguite rispettando gli accordi sindacali siglati perché manca personale, personale che prima era stato affidato a una cooperativa esterna in virtù del blocco delle assunzioni del piano di rientro poi questa amministrazione ha deciso di applicare una spending review nei confronti dell'assistenza diretta riducendo drasticamente il numero del personale afferente a questa cooperativa esterna e quindi facendo gravare il tutto sulle risorse interne che abbiamo grazie a tutti